anche quest'anno in occasione della giornata internazionale per l'epilessia le aziende del farmaco sono accanto a lice fondazione lice per lanciare le nuove campagne di sensibilizzazione che per quest'anno le novità sono metti in panchina l'epilessia e l'epilessia al cinema parliamo del supporto e dei nuovi progetti anche per combattere l'epilessia con il dottor Ivan Dischiena Head of Patient Access and External Engagement Italia di UCB. Dottor Dischiena un'occasione importante quella di oggi per parlare di epilessia in questa giornata internazionale dell'epilessia come continuerà l'impegno vostro dell'azienda nel supportare lice e quali i vostri prossimi progetti nella ricerca di soluzioni nell'ambito dell'epilessia? L'impegno di UCB è un impegno trentennale che inizia e che possiamo descrivere in tre fasi la prima fase è quella del controllo dei sintomi che è ancora assolutamente attiva la seconda fase è quella della comprensione dei bisogni di specifiche popolazioni di persone con epilessia come le persone anziane le persone con epilessia rara le persone con epilessie multiresistenze i pazienti pediatrici e la terza fase che è quella che ci vede per il futuro è quella di comprendere i meccanismi di azione della patologia e quindi andare alla totale personalizzazione della terapia sfruttando appieno quelle che sono le opportunità della terapia genica. Il nostro impegno a fianco di lice nella realizzazione di questa campagna e del contesto adesso associato nascono dalla condivisione di quella che è la missione di lice cioè lavorare insieme alle istituzioni insieme alla scuola per migliorare l'educazione per migliorare la consapevolezza sull'epilessia partendo proprio dai giovani utilizzando il format del cinema per raccontare storie di vita reale con l'epilessia questo è fondamentale perché l'epilessia sono una diversa dall'altra quindi vanno descritte per le loro peculiarità. E' molto importante in questo momento questa fare squadra come sta facendo lice in particolare per alcune forme di epilessia che sono le epilessie rare in quanto sono quelle ancora più soggette a delle carenze importanti peraltro questo è un momento molto importante perché abbiamo appena avuto la pubblicazione del piano nazionale delle malattie rare che dà proprio un quadro di priorità a livello istituzionale di cosa bisogna fare come bisogna farlo per migliorare la vita delle persone con malattie rare. Oggi la grande sfida è fare i verticali di patologia quindi andare nelle specifiche patologie rare e nel caso in cui stiamo parlando oggi delle epilessie rare, epilessie che spesso comportano anche problematiche motorie, problematiche psicologiche e quindi i pazienti hanno bisogno non solo della migliore terapia disponibile ma hanno anche bisogno di un supporto psicologico, di un supporto organizzativo quindi risposte di salute molto importanti. Mettere l'epilessia in panchina per noi significa portarla via dallo spazio privato cioè quello spazio dove la famiglia e la persona con l'epilessia si trovano spesso soli a dover affrontare tutte le difficoltà della gestione di questa patologia offrendo non solo l'accesso alle migliori soluzioni innovative che la scienza ci mette a disposizione ma anche offrendo supporto psicologico, offrendo supporto organizzativo, offrendo i migliori modelli presi in carico al fine di dare le risposte di sanità, di politica sanitaria che queste persone e i loro familiari si meritano.